Allora, il 21 aprile arriva Viva Verdi, ma la necessità, Bagliani, di mettere in scena un personaggio così importante come Giuseppe Verdi, da dove è nata? È proprio come hai detto tu, una necessità. Viva Verdi, ci saranno 30 orchestrali, 30 ocoristi in scena, che eseguiranno i cori e l'ouverture più importanti tratti dalle opere di Giuseppe Verdi. E a condurre ci sarà proprio lui, Giuseppe Verdi, da me interpretato insieme a un altro attore che interpreterà il ruolo di Falstaff, che quindi mi provocherà, quindi racconteremo anche aneddoti divertenti, momenti della carriera di Giuseppe Verdi, ricordando la sua difficoltà per esempio contro la censura. Ma appunto, come dicevo prima, anche momenti ironici, perché lui è stato un grande italiano. Ricordiamoci che il Nabucco, che debuttò nel 1842, il coro Va Pensiero, è diventato l'inno del risorgimento italiano. Quindi lui si è impegnato anche rischiando la propria vita, e quindi voglio dire, credo che sia un omaggio doveroso, prima di tutto, al talento di Verdi. E poi io per preparare questo spettacolo ho letto molte sue lettere, perché Verdi era un grafone, poi allora si scriveva solo, quindi... Ed è venuto fuori appunto un personaggio anche forte, un personaggio che si imponeva, con i librettisti che chiedeva determinate cose, in modo anche burbero, infatti era un carattere chiuso. Ecco, la differenza tra i due personaggi, tra il mio e quello di Falstaff, che è il protagonista dell'ultima opera che Verdi ha scritto quando aveva già 80 anni, alla fine della sua vita. Allora, che cosa dobbiamo dire ai nostri tre spettatori, l'appuntamento? L'appuntamento è venerdì, 21 aprile, ore 21, Teatro Alessandrino in Alessandria, Viva Verdi, Corio, Overture e Passioni di un grande italiano.